Buongiorno, oggi è venerdì ed è il 5 maggio del 2017, abbiamo l'ultimo appuntamento con la serie su Abbattere le Fortezze, una serie che sicuramente ci permetterebbe di andare avanti per tanto tempo, perché è un argomento molto profondo, come abbiamo visto, è un argomento che ci impegnerebbe veramente tanto e meriterebbe, meriterebbe veramente tantissimo. Quindi sono stati scritti tanti libri, sono stati registrati tanti insegnamenti su questo argomento, ed è un argomento immenso, molto profondo, quindi prima o poi si deve concludere, anche se non è che siamo andati molto in profondità, però vorrei concludere con, per me è il pezzo più forte per abbattere le fortezze nella nostra mente. E ricordo che stiamo leggendo da Secondo Corinzi, capitolo 10, dal versetto 3, dove dice infatti se camminiamo nella carne, non guareggiamo secondo la carne, ma le nostre armi sono, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma sono potenti nel cospetto di Dio per distruggere le fortezze, e affinché distruggiamo le argomentazioni, ogni altezza che si eleva contro le conoscenze di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Uno dei pensieri comuni e costanti che è nella mente di ogni essere umano è ma Dio ce l'ha con me, Dio ha arrabbiato con me, cosa pensa Dio di me, eccetera, eccetera. Ed ecco perché una delle fortezze più grandi che esistono nella mente dell'uomo è l'immagine sbagliata di Dio, un'immagine che è stata costruita nell'arco dei secoli attraverso degli insegnamenti, attraverso degli esempi orribili che la storia ci ha dato, che purtroppo la Chiesa ci ha dato e nessuno chiaramente si sente di scagliare piede, perché nessuno è senza peccato, ma ci rendiamo conto che quando parliamo dell'immagine di Dio è un argomento sicuramente che ha delle radici molto profonde che vanno nella storia, vanno nel tempo, vanno molto in profondità, in profondità non di duemila anni, di più di duemila anni. Quindi Gesù è venuto a definire una volta e per tutta l'immagine di Dio dando la giusta, corretta e definitiva e definita immagine di Dio all'umanità. E proprio ieri mentre ci trovavo a Messina e leggevo queste parole sono stato colpito ancora una volta dallo Spirito Santo dalla semplicità che ha nell'andare a toccare certi tasti nella nostra vita. E leggevo ieri dalla lettera di Paolo a Tito quando lui dice anche noi infatti un tempo eravamo insensati, ribelli, eravamo erranti, schiavi di varie concupiscenze, volutà, vivendo nella cattiveria, nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Ma quando apparvero la bontà di Dio, il nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini, egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia. Ed è bellissimo qui come Paolo rappresenta Gesù con degli aggettivi straordinari che rappresentano Dio, che sono attributi di Dio. E lì riferisce a Gesù, dice, quando apparvero la bontà di Dio e il suo amore. Gesù viene definito da Paolo la bontà di Dio. Gesù è la bontà di Dio che è apparsa a tutti gli uomini. Gesù è l'amore di Dio che è apparso ed è venuto, si è materializzato in carne e sangue ed ha abitato tra di noi. Giovanni dice una cosa bellissima nel suo Vangelo, al capitolo 1, al versetto 14, dice così la parola che nel principio era con Dio, la parola che nel principio era Dio, dice la parola si è fatta carne ed ha abitato tra di noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Gesù viene definito la parola di Dio, viene definita la grazia di Dio, viene definita la verità di Dio, viene definita la bontà di Dio, viene definita l'amore di Dio e dice un po' più avanti nessuno ha mai visto Dio, nessuno ha mai visto Dio, nessuno ha mai visto Dio realmente come Lui è e neanche Adamo ha visto Dio realmente come Egli è. Noè non lo ha visto, Abramo non lo ha visto, Elia non lo ha visto, Davide non lo ha visto, i profeti dell'antico patto, nessuno l'ha visto. Solo Gesù che è la parola, l'unigenito del figlio che è nel seno del Padre è colui che ce lo ha fatto conoscere, è Gesù che ci ha fatto conoscere come è il Padre realmente. Ovviamente in Giovanni 14 c'è la storia, tutti quanti noi la conosciamo, di quando Gesù dice io sono la via, la verità è la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me e Filippo gli fa la domanda e dice signore mostraci il Padre e ci basta e Gesù risponde Filippo da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora riconosciuto, da tanto tempo signore mostraci il Padre e Gesù dice da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai conosciuto ancora, chi ha visto me ha visto il Padre. Gesù è scritto in Giovanni nel capitolo 10, parla che nessuno ci potrà mai rapire dalla sua mano, che nessuno ci potrà mai rapire dalla mano del Padre e poi Gesù dice io e il Padre siamo uno, Gesù è l'immagine dell'iddio invisibile, l'impronta della sua essenza, lo splendore della sua gloria che ha visto Gesù, ha visto il Padre, Gesù è l'apparizione della bontà di Dio, l'apparizione, la materializzazione dell'amore di Dio. Ed è bellissimo quelle parole che dice Pietro in Atti degli Apostoli quando dice sapete tutti la storia quando si trova a casa di Cornelio come Gesù è stato unto di Spirito Santo e di potenza ed è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo e questa è la manifestazione di Dio fatta carne e questa è una delle fortezze più grandi per me, io la definisco la fortezza più grande che deve essere distrutta e disintegrata nella vita dell'essere umano, nella vita di ognuno di noi. Hanno difficoltà coloro che hanno già sperimentato la grazia di Dio, figuriamoci quelli che ancora non hanno sperimentato, però a volte, con mia grande sorpresa, trovo più rivelazione nella vita di coloro che, tra virgolette, non è gente che frequenta posti religiosi ma che hanno una rivelazione dell'amore di Dio perché lo paragonano a quello di un padre verso i propri figli. E Gesù l'ha detto, se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il vostro padre che è nel cielo. E questa fortezza è una delle fortezze che è stata costruita non negli anni, è stata costruita non nei secoli, è stata costruita nei millenni con pensieri sbagliati su Dio, sull'immagine di Dio, sul carattere di Dio, sulla natura di Dio. Ed ecco perché questa fortezza, l'unico modo come può essere demolita in maniera definitiva è soltanto se noi ci concentriamo su Gesù. Io voglio consigliarti a smettere di leggere il Nuovo Testamento e smettere di leggere l'Antico Testamento. Leggi i Vangeli, concentrati per un periodo di tempo sui Vangeli, concentrati su Gesù. Lui è la parola di Dio, non la Bibbia. Gesù è la parola di Dio. Tutte le volte che la Bibbia parla della parola di Dio non è riferita a se stessa o ad essa ogni volta che la Bibbia parla della parola di Dio è riferita alla persona stessa di Gesù. Gesù ha detto le mie parole sono spirito e vita. Le parole di Gesù non dovrebbero mai essere messe allo stesso livello delle parole di Mosè o delle parole di Paolo perché solo uno ha parole di vita eterna ed è Gesù, non la Bibbia, Gesù. Ed ecco perché concentrati sulle parole, sugli insegnamenti di Gesù. Gesù è colui che spiega l'Antico Patto, Gesù è colui che spiega il Nuovo Patto. L'uno e l'altro non spiegano Gesù, è Gesù il faro e la luce che illumina il passato e il futuro. E quindi se noi ci concentriamo sulle parole di Gesù, sull'immagine di Gesù, sull'operato di Gesù riusciremo a comprendere realmente come è Dio. E questa fortezza sarà demolita, si sgretolerà, sarà frantumata una volta e per sempre nella nostra vita. Voglio incoraggiarvi con tutto il cuore a stare sulle parole di Gesù. Prendetevi del tempo, una settimana, un mese, più di un mese, non ha importanza, state sui Vangeli. Divorateli, leggeteli e assorbiteli affinché questa parola che è diventata carne, possa diventare carne dentro di voi. La parola si è fatta carne affinché ogni carne possa diventare parola. E questo è molto importante per noi a comprendere. Assimila la parola di Dio, assimila Gesù affinché tutto ciò che nella tua carne possa esprimere la parola, il carattere. Non la Bibbia, la persona stessa di Gesù. Gesù non predicava la Bibbia, Gesù predicava il Vangelo del Regno. Gesù non andava con la Bibbia sotto il braccio, lui era. Ed è la parola rivelata, la parola vivente. Lui è Logos e Rema nello stesso momento. Ed è meraviglioso, è straordinario. Rimaniamo su questa immagine corretta. Come dice Paolo a Tito, voglio concludere in questo modo. Ma quando apparvero la bontà di Dio, nostro Salvatore, è il suo amore verso tutti gli uomini. La bontà di Dio è il suo amore. Gesù è apparso e viene definito la bontà di Dio, l'amore di Dio fatto uomo. Seguiamo il suo esempio. Una buona giornata. E stasera e domani sera sarò a Milano per chiunque volesse partecipare. Ci sono tutti i riferimenti sulla mia pagina. Una buona giornata a tutti quanti.